Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova edizione del Fatto del Giorno. Oggi parliamo di titoli automobilistici che crollano in tutta Europa, ma a guidare questa perdita è Stellantis, l'azienda compartecipata della famiglia Agnelli. Crollano anche i titoli in borsa, in particolare a Piazza Affari e a Parigi, del 15% circa, dove la holding è quotata. Ma vediamo il motivo. A preoccupare la revisione al ribasso del target 2024, in particolare nel secondo semestre, non saranno vendute 200.000 veicoli. Tra le cause c'è anche l'andamento negativo del mercato in Nord America. A causa degli scioperi, per paura degli scioperi, l'azienda infatti ha prodotto un numero maggiore di auto rispetto a quello che il mercato è riuscito a subire. Preoccupante il mercato dell'auto elettrica. Il settore non decolla in Europa e sposta anche il termine del 2035 allo stop della vendita di auto a benzina. Per dare un numero sono state vendute ad agosto 125.000 auto elettriche, meno 36% rispetto allo scorso anno. Tra le ipotesi c'è anche quello della fusione con il gruppo francese Renault, in particolare anche un cambio di nome ai vertici, il CEO di Renault, Luca De Meo, al posto dell'amministratore delegato di Stellantis Tavares, appunto, a partire dal 2026. Ma tra, ovviamente, la crisi intacca non solamente a livello economico, ma anche a livello di dati occupazionali, con 25.000 posti di lavoro a rischio nei prossimi mesi. Oggi, in particolare, si discuterà alla Camera dei Deputati un disegno di legge del governo in tema di lavoro, con mozioni anche concernenti lo sviluppo produttivo e, ovviamente, a livello anche occupazionale, proprio degli stabilimenti Stellantis in Italia. Allora, questo è tutto per il Fatto del giorno di oggi. Noi vediamo appuntamento alla prossima edizione.